Mi chiedono sempre di abbassare il prezzo. Ogni volta che arrivo a quel punto si va sempre a discutere di sconti e di prezzi. Finisce sempre così. Qualche domanda dovresti fartela. Come mai alla fine finite sempre per parlare di prezzo? Forse non sei stato capace di fargli capire il tuo valore, di fargli capire la tua differenza. Perché è vero, siamo in un mondo un po' levantino, siamo in fin dei conti mediterranei e tutte le volte che qualcuno ci chiede un prezzo ci prova a chiederci lo sconto. Tutte le volte sei sicuro? Tu quando vai a comprare il giornale chiedi uno sconto ridicolante? Quando vai al ristorante gli chiedi di farti lo sconto? Al massimo ti offrono il lemoncello. Quando vai al supermercato e arrivi alla cassa gli dici scusi ma mi fa uno sconto? No non lo fai perché? Perché ritieni che quello sia il prezzo giusto per quello che stai comprando. Perché ritieni che il valore che ti stanno offrendo è quello che ti serve. Guarda la realtà con uno sguardo differente. Cerca di capire in che modo far percepire al tuo cliente la tua soluzione, il tuo valore, non il prezzo. E se tutti i tuoi clienti ti chiedono il prezzo la domanda che ti devi fare è sbaglio qualcosa io oppure ho sbagliato clienti? Perché se vado da clienti che sono interessati solo al prezzo e il mio prodotto non è un prodotto da prezzo qualche errore l'hai fatto. Vuoi provare a rivedere un po' il tutto? Beh ragiona un po' e se non ce la fai da solo chiamami, magari posso esserti utile.